I finanzieri del secondo nucleo operativo metropolitano di Palermo, nell'ambito della costante attività di controllo economico del territorio, hanno sequestrato 50 kg di sigarette e di contrabbando trasportate da un corriere in due borsoni occultati a bordo di un autobus di linea proveniente da Napoli. Il soggetto sceso al mezzo è stato bloccato dai militari mentre stava caricando i borsoni all'interno di un'auto che l'aspettava sul posto per ricevere il carico. Sia il corriere che il compice sono stati arrestati in flagranza di reato mentre il carico di Bionde è stato sottoposto a sequestro. L'arresto dei due, entrambi palermitani di Brancaccio, di 28 e 22 anni, è stato convalidato dal Tribunale di Palermo. L'attività di servizio si inquadra nell'ambito della costante azione di controllo economico del territorio assicurata alla Guardia di Finanza a contrasto dei traffici illeciti che interessano il territorio della provincia.